Tarenzi e Salvatore Rinaldi per decidere chi giocherà il primo pallone adesso è davvero tutto pronto per l'inizio di questa partita arriva il fischio dell'arbitro e invece col sinistro la palla resta in area e sottoporta la conclusione di Martinovic la Samp con questo calcio di punizione Stavolta sul secondo palo Tarenzi colpisce di testa e colpisce ancora Pomigliano come all'andata è Tarenzi che fa 1-0 al 32esimo per Stefania Tarenzi che anche con un pizzico di fortuna è andata a trovare la deviazione vincente bello il cross di Rincon Tarenzi salta sulla schiena di Luic senza commettere il fallo Rincon per Cionce che va a calciare centrale per Setinia sempre Banusic sul pallone gioca corto per Tudisco che prova la conclusione palla sulla parte superiore della traversa occasione per Pomigliano con il destro di Tudisco che è andato a scheggiare la traversa 12 nel secondo tempo calciato bene è andata a colpire a scheggiare la traversa fischia l'arbitro parte Banusic Tampieri blocca il pallone è partita in anticipo è andata dalla parte giusta ha fatto una gran parata è troppo forte ma ben indirizzato Tampieri si aspettava questa traiettoria Ferrario ma batte cross dentro di Ferrario deviazione e poi Tampieri in calcio d'angolo perché sul cross di Ferrario c'era stato il colpo di testa di Tarenzi ma nella porta sbagliata ancora Martinez può puntare Luic cross dentro Rincon col destro non trova lo specchio della porta è vicino al 2-0 cacciato di controbalzo Wagner dentro per Martinez posizione regolare Tarenzi palla fuori era tutto regolare tutto buono tutto sinistro all'indietro per Luic ancora Alanda prepara la conclusione la palla finisce fuori di pochissimo buon sinistro ci ha provato la palla è finita nella parte superiore della rete l'ultima opportunità perché anche il recupero è scaduto fischia l'arbitro basta così così è deciso la Sampdoria la Sampdoria vince 1-0 sul campo di Pomigliano e torna alla vittoria la Sampdoria vince e la Sampdoria vince la Sampdoria vince la Sampdoria vince la Sampdoria vince